Luna è una vera e propria simpaticona, scherza con mamma e sputacchia dopo aver bevuto. Lei la chiama bionda, è la prima bionda di casa. Si può sapere che gioco è questo? Luna! Che gioco è questo? Ehi bionda! Ehi bionda! E stai sputtando tutto così? Bello, 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 bello. Ti hai consigliato un protocollo inglese? Sei la vichinga, sei la mia vichinga! La vichinga di Belen è veramente splendida. Una vera e propria inglese, bellissima che sorride e scherza con mamma.